una saccatura atlantica tende gradualmente ad approfondirsi sulla penisola iberica determinando la formazione di un minimo depressionario tra francia e baleari che piloterà un sistema frontale perturbato che interesserà l'italia nelle prossime ore in toscana lunedì 27 aprile coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale venti moderati da sud sud est forti lungo la costa e sull'arcipelago in attenuazione in serata mari mossi o molto mossi in particolare a largo e a sud dell'elba temperature minima in lieve aumento massima in calo sul territorio provinciale molto nuvoloso coperto con piogge diffuse localmente di forte intensità a lucca sulla piana temperatura minima 13 massima 19 gradi in versiglie sul litorale minima 14 massima 16 in garfagnana zone montane minima 12 massima 16 gradi martedì da molto nuvoloso con deboli piogge a poco nuvoloso in serata o Grazie a tutti.